Parliamo di iterazione, cioè parliamo della ripetizione di una certa istruzione o di un certo blocco di istruzioni per un certo numero di volte. Quindi se io volessi scrivere ad esempio Hello World e lo volessi scrivere un certo numero di volte, ovviamente potrei fare un copy and colla in questo modo, ma non è sicuramente la cosa più agevole da fare. Quello che vorrei dire è ripeti questa operazione un certo numero di volte. Il C++ mi mette a disposizione un costrutto che è il while, mentre, che mi consente di dire mentre si verifica una certa condizione, esegui quello che sta all'interno di queste parentesi graffe. Quindi quello che posso fare è una cosa di questo tipo, cioè se voglio scrivere n volte Hello World, 5 volte, 10 volte, potrei dire ok comincio a contare finché non arrivo a 5, quindi conto 0, 1, 2, 3, 4, 5, finché non arrivo al limite che mi sono imposto, continuo a scrivere Hello World, dopodiché ti fermi. Quindi quello che potrei fare è semplicemente andare a dire ok conta uguale a 0, while conta minore di 5, se è 5 il limite che voglio avere, scrivi Hello World. Ovviamente dopo averlo scritto devo incrementare il contatore, quindi devo continuare a contare, quindi scrivo Hello World e dico ok ho contato una volta, scrivo Hello World ok ho contato un'altra volta, scrivo Hello World ho contato un'altra volta, finché non arrivo al limite che mi sono imposto. Quindi se eseguo il tutto, ok, scrivo effettivamente Hello World per 5 volte, se qui diventa 10, ovviamente mi scriverà Hello World per 10 volte. E questa è una prima possibilità. La seconda possibilità che ho è quella di utilizzare il costrutto for per un certo numero di volte fai quest'operazione e qui abbiamo for con tre statement differenti, S1, S2 ed S3, separati dal punto e virgola. Cosa devo andare a inserire in S1, S2 ed S3? Bene, in S1 scrivo lo statement iniziale che viene eseguito la prima volta solamente e quindi in questo caso sarà proprio esattamente l'analogo di conta uguale a 0, quindi for int conta uguale a 0. In S2 c'è la condizione che deve essere rispettata, quindi esattamente questa condizione, quindi conta minore di 10. Dopodiché in S3 c'è l'incremento, quindi quello che deve essere eseguito successivamente. Quindi eseguo la scrittura di Hello World, dopo averla eseguita vado ad eseguire l'incremento, conta più più e vado a verificare che effettivamente venga rispettata la condizione. Se viene rispettata la condizione proseguo, altrimenti esco fuori dal ciclo. Quindi commentiamo questo pezzo di codice in modo tale che venga eseguito direttamente solo la parte del for, quindi avrà scritto per 10 volte Hello World. Esatto, scriviamolo, facciamo bene che... ecco qui. È stato eseguito effettivamente per 10 volte l'Hello World. Quindi come vediamo le due scritture sono del tutto analoghe, quindi while e for, vengono distribuiti in qualche modo quello che qui era all'interno della condizione e qui all'esterno del ciclo while, vengono tutti quanti inseriti negli statement S1, S2, S3 della sintassi stessa del for. Abbiamo la possibilità inoltre di stabilire una sequenza di escape, cioè nel momento in cui si verificano alcune condizioni posso bloccare l'esecuzione del ciclo while anche se non... diciamo anche se la condizione sarebbe comunque soddisfatta. Ad esempio, se per qualche motivo io volessi che quando conta è uguale a 5 venga interrotta l'esecuzione qui dentro, quindi si esca dal ciclo while, potrei fare una cosa di questo tipo, cioè if conta uguale uguale a 5, break. Quindi quando arriva a 5 non va più ad essere verificata la condizione che sta qui all'interno, ma semplicemente break, cioè si esce fuori dal ciclo for. Quindi se facessi una cosa di questo tipo, facciamo così, scriviamo hello while e qui facciamo hello for e qui facciamo if conta uguale a 3. Quindi se eseguiamo questo codice qui, dovremmo avere 5 while, ecco qui, e in questo caso 4 for, perché farebbe 0, 1, 2 e 3 in questo caso, quindi anche il terzo lo scriverebbe. Quindi abbiamo 5 while e 4 for.